buongiorno a tutti bellissima giornata di sole fuori qui siamo nel salone di esposizione in uno dei saloni di esposizione dell'autoroin e voglio fare una cosa così una un rapido escursus sui sei metri 5,40 e 6 metri sono le lunghezze di camper van che si vendono di più in italia più apprezzati 5,40 per la praticità esterna il 600 per la praticità anche un po inferiore a quella del 5,40 ma soprattutto la grande abitabilità dentro allora le macchine che io presento che amo presentare lo sapete sono van tourer westfalia e tucket tucket prodotto da robetta in esclusiva per noi questo è ancora da reclamizzare il tucket che vi presenterò adesso per vedere come è fatto l'allestimento allora io qui non mi si affermerò troppo sui particolari per non per non fare per non dilungarmi ma sottolineerò o evidenzierò le particolarità che rendono queste macchine non una migliore dell'altra ma una diversa dall'altra e interessante parimento interessante per ognuno a seconda delle esigenze dei gusti eccoci benissimo partiamo con vestfalia columbus vestfalia columbus è il top di gamma di vestfalia potremmo parlare di amunzen ma non ne parliamo in questa sede in questa sede parliamo di di columbus perché è quello che si affianca sia per fascia di prezzo che per cose interessanti a van tourer 600 e tucket allora le peculiarità di vestfalia columbus sono le seguenti il bagno io comincio sempre da qua il bagno a parte la porta specchi che mi serve però per un attimo che vediamo se riesco a vedermi tolgo il berretto eccoci qua riesco a vedermi dove sono qua ok ciao a tutti allora che spettinato benissimo allora ciao a tutti ciao a tutti buon 2021 andiamo avanti porta specchio dentro e fuori è un'option al mai carina il bagno sigillato tutto quanto vedete tutto bello sigillato in plastica qui ancora specchi ovviamente sempre giuliano che gira in plastica sigillato per cui ci possiamo fare la doccia tranquillamente senza problemi di rovinare qualcosa ecco c'è una tendina in verità che viene fissata su due bottoni su due clips qui all'interno della porta che serve per non bagnare la porta e per non fare eventualmente uscire l'acqua vedete da lì no applic che uscirebbe sul sul corridoio benissimo ci si può mettere questa tendina ma si può anche evitare di metterla se ci si tiene se si fa se ci si doccia girandosi verso la parete non verso la porta altra cosa eccezionale di eccezionale nel senso che è un'eccezione ce l'ha solo lui è questo letto vedete questo qui è un letto da 180 centimetri per un metro che è un brevetto vestfalia lo vedete è sì praticamente la dinette si trasforma in letto in un attimo se voi vedete adesso che io lo faccio con la telecamera qui in mano però in un attimo con una mano e mezza ho rimesso a posto la dinette eccoci qui chiaramente va il tavolino eccetera eccetera andiamo avanti andiamo avanti con le altre cose particolari le cose particolari sono queste riscaldamento il columbus vestfalia columbus è l'unico van che io sappia se non c'è se non c'è qualcos'altro che io non so ma l'unico van che io sappia che in europa che ha il riscaldamento non ad aria soffiata ma a radiatori come a casa allora cosa succede qui sotto sotto il pavimento qui c'è un riscaldamento vebasto o eberspecher o vebasto quel che sia che riscalda liquido invece che riscaldare aria cosa vuol dire che il liquido che non c'entra nulla con quello del motore intendiamoci è una cosa assolutamente indipendente dedicata solo all'abitacolo all'abitazione riscalda del liquido che corre in quel radiatore nel radiatore che abbiamo visto in bagno intravisto e nel radiatore che vedremo poi nella zona di carico dietro e ci sono anche due ventilconvettori che servono a portare in temperatura al volo velocemente dopodiché si speggono e il riscaldamento viene mantenuto attraverso cioè grazie ai radiatori questo cosa vuol dire cosa cambia cambia che l'aria si muove meno c'è meno polvere meno cose in giro meno 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 e si secca meno si asciuga meno eccetera questo si dice di questo riscaldamento se acquistiamo questo mezzo come questo a per esempio con il kit invernale abbiamo anche il riscaldamento a pavimento e il piatto doccia riscaldato a non dimentichiamo che qui l'impostazione in in columbus l'impostazione delle temperature avviene separatamente fra l'abitazione e il bagno fra il locale abitabile e il bagno come a casa ogni ambiente ha possibilità di regolare la temperatura come si vuole dentro bellissimo chiaro per chi piace il bianco chiaro lucido così con gli specchi eccetera è veramente stupendo devo dire e andiamo a vedere un altro un'altra caratteristica che è comune a tutti i camper nuovi che io propongo ma che comunque non smetto mai 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 di insistere a dire signori il camper che sia un camper tutti i giorni e che c'è un camper che serve deve avere spazio trasversale posteriore di carico per metterci le biciclette gli sci gli ombrelloni le cose lunghe le tavole le quello che volete voi senza doverle infilare nel nel corridoio che poi ce le troviamo davanti al bagno davanti al frigo eccetera eccetera io voglio e dico sui miei camper van van vendo solo van ci sia sempre lo spazio da qui a qui 185 centimetri fa il ducato e questo è benissimo molle a tazza letto con le molle a tazza froli 10 centimetri di materasso di lattice con il tessuto traspirante una bellissima illuminazione led con le strisce led dimerabili per cui va ben così può avere il tetto a soffietto a richiesta la macchina rimane identica cambia solo il fatto che ovviamente è il tetto a soffietto allora sto leggendo sul perché mi avete detto che dimentico le cose allora mi sono fatto gli appunti benissimo altra cosa il misura del letto misura del letto 195 per 140 regolare rettangolare un letto meraviglioso ok andiamo avanti andiamo su van tourer a abbiamo notato che vestfalia columbus o comunque tutti vestfalia a monza e columbus non hanno il letto posteriore sollevabile allora cosa succede quando come succede moltissimo spessissimo che qualcuno mi dice sì però vorrei metterci le biciclette sempre più fortunatamente cioè sono contento che sempre più gente abbia le bici elettriche forse un giorno ce l'avrò anch'io quando mi prenderò il tempo di usarla ma quando vogliamo se vogliamo mettere delle biciclette elettriche o non elettriche insomma ci sono bici che costano molto come sento dire e la gente ha sempre piacere di più di metterle di metterle di viaggiare con le bici dentro la macchina si può fare anche su columbus però bisogna abbassare la sella e togliere la ruota davanti su van tourer invece con questo letto sollevabile che è un optional ma ovviamente noi per l'italia lo pigliamo sempre con letto sollevabile vedete che abbiamo un vano di carico enorme lo spazio trasversale i famosi 180 qui sono 182 centimetri da qui a qua ci sono le biciclette ci stanno se andate a vedere sulle foto delle mie inserzioni vedrete anche le bici caricate in queste macchine perché i clienti arrivano anzi io dico sempre venite portatevi anche le biciclette se quelle ci devono stare portate le bici le proviamo dentro e così succede che poi uno si rende conto che questa è la macchina ideale per questo uso dio per le bici per le bici è una cosa poi chiaramente se calcoliamo che qui il piano di carico sono 130 per 140 voi capite che qua questo diventa un camper tutti i giorni nel senso che ci si può andare a caricare col muletto capite qua essendo le porte si aprono a 180 gradi come come quelle dei dei di chi trasporta le cose qui si va e si può caricare tranquillamente un pallet con da cento per da centoventi per cento insomma quello che volete voi 130 per cento 45 sono le misure di questo vanno di carico che è il più grande della categoria allora io dico questo chiaramente van tourer è il top del top per avere il massimo vanno di carico allora posteriore che rende utile un camper perché io dico sempre così abbiate pazienza ma io non ce molto nel senso io dico sempre che quando abbiamo mobili fin qua dietro a destra e a sinistra il bel corridoio in mezzo e il letto frazionato che si alza lì siamo di fronte a una cosa che è stata di altri tempi ma non è più non è più attuale non è più moderna andiamo avanti qui alzato questo letto se lo alziamo fino in cima al massimo possibile si può alzare ancora 20 centimetri da lì abbiamo centoventicinque centimetri di altezza libera qua va bene qui sotto possiamo questi due mobiletti che rivestono i parafanghi possiamo utilizzarli per metterci un letto in un letto sotto per fare il letto a castello matrimoniale singolo o doppio è fatto in due pezzi può essere singolo o doppio il letto inferiore diventa un lettone è vero chiaramente si può anche metterne metà mettere biciclette qui un paio di biciclette qui lì un letto e qua sopra c'è quest'altro matrimoniale e insomma poi io dico sempre qui noi abbiamo lasciato lo spazio lo spazio quando c'è spazio voi lo potete riempire se è già stato riempito dagli allestitori e voi vi adattate a quello che hanno fatto loro ma qui è trovo molto ma molto più intelligente questo sistema di proporre lo spazio in un camper van ok ultimo particolare questa tutta questa cosa questa dimensione enorme di vano di carico posteriore e si ottiene anche grazie al fatto che il serbatoio dell'acqua è lì sotto vedete quella botolina lì lì si accede al ai rubinetti eccetera del serbatoio che è qui sotto che non dà nessun fastidio che non tocca che non fa che non briga è coibentato vedete c'è una coibentazione in xps e poi è riscaldato vale a dire che dalla truma combi che c'è lì davanti c'è anche un tubo che passa in una serpentina dentro al serbatoio per evitare che si geli l'acqua o almeno io finora da tutti i clienti a cui ho consegnato van tourer da tre anni a questa parte non ho mai sentito la mentele sul discorso dell'acqua andiamo a vedere un'altra particolarità del van tourer van tourer da quest'anno dal 2021 ha il vario bad il bagno non è senza tendina ce l'ha la tendina ma anche per un motivo che può essere vedete qui qui ci sarebbe una pedana quando non si usa la doccia c'è una pedana che qui sotto adesso si mette sotto il letto quando non serve quando si vuole fare la doccia qui c'è un piatto doccia nel corridoio noi possiamo utilizzare questo bagno bagnetto onestissimo vero con parecchi parecchi posticini per cioè armadietti armadiotti per metterci le cose un lavandino di una dimensione molto interessante cosa succede qui semplicemente aprendo questo si crea questo bagno grande più grande e avvolgendosi in questa tendina questo si attacca qui con le calamite con la tendina si crea un vano doccia di notevoli dimensioni bene il sedile la della dinette si può allargare qui c'è una cosa di riempimento il sedile dunque il tavolino può essere abbassato lì sotto vedete che c'è un'altra scina per metterci questo tavolino togliendo metà piede e grazie a un cuscino che si può ordinare o anche fare si può creare un'altra zona letto qui davanti calcoliamo che abbiamo allora il letto a castello matrimoniale posteriore che sono quattro posti letto qui ne vengono altri due van turer si può avere con il tetto a soffietto anche lui bellissimo il tetto a soffietto lo vedete sui miei filmati in quel caso abbiamo potenzialmente otto posti letto e poi non dico altro perché dico sì possiamo fare un bed and breakfast va bene ora passiamo a tuket tuket è la nostra mia nostra creatura viene prodotto in viene allestito da robeta in slovenia e la caratteristica principale della macchina le prime parole che mi sono state dette quando ho visitato la fabbrica quando abbiamo ipotizzato questo discorso questo progetto tuket è stato il fatto che il titolare uno dei titolari mi ha detto noi prestiamo particolare attenzione all'isolamento termico loro sono vicini all'austria sono vicini alle piste hanno iniziato dieci anni fa circa a fare queste ad allestire furgoni e l'esigenza principale era il la coibentazione termica perché dovevano lavorare a meno 20 tranquillamente eccetera la la finitura la cura nella coibentazione qua dentro tutto è coibentato in arma flex eccetera con uno spessore notevole per cui diciamo che insieme a la strada questa altra azienda tedesca che allestisce camper robetta e la strada sono quelli che per quanto ne so io lavorano meglio a livello di isolamento termico ho sottolineato molto questa cosa perché mi viene chiesta spesso a livello di isolamento termica io dico tuket è il migliore dopo degli altri non parlo male ma tuket è il migliore da questo punto di vista scusate sono di parte ma è logico qui ho fatto abbiamo studiato una macchina che fosse che rispecchiasse tutte le le cose che io prediligo dentro un camper benissimo allora parliamo del vano di carico perché ne abbiamo parlato parecchio su vantura parliamo del vano di carico di tuket tuket che cosa i mobili qua il più basso possibile 40 centimetri l'altezza di quei mobili il minimo è possibile per rivestire i pavimenti i parafanghi del ducato che ovviamente non possiamo togliere tuket ha la ruota di scorta perché perché le abbiamo lasciata originale e il il serbatoio da 90 litri dell'acqua fresca è lì dentro ci ruba un po di spazio però abbiamo la ruota di scorta c'è l'alternativa vantura non ha la ruota ha più spazio questo tuket ha meno spazio però la ruota di scorta così accontentiamo tutti benissimo il letto posteriore vediamo che è sollevabile elettrico lo abbassiamo quando entriamo in macchina l'altezza l'altezza che ci rimane qua quando abbiamo alzato del tutto il tetto e sì scusate il letto il letto vedete che sale fino a quello quella mensola abbiamo fatto una mensola piccola per far salire molto il letto qui sotto ci si crea un ambiente alto 145 centimetri questo volevo vale a dire abbiamo introdotto con questa macchina il fatto di avere un vano in più fruibile con un letto a scomparsa praticamente a scomparsa per quanto possibile non c'è la magia qui al massimo si arriva lì e e questa zona può diventare metteteci tutta la fantasia può diventare una seconda dinette una dinette per la zona giorno una sala giochi per i bambini un posto per il cagnolino che ne so io le biciclette ci stanno sempre da lì a qua ci sono sempre i nostri 180 centimetri biciclette da 26 quando io non me ne intendo ma arriva qui clienti le bici da 26 ci stanno tranquillamente vedete le foto sulle sugli annunci economici vedete ecco quelle da 29 invece viene tolta la ruota davanti girato il manubrio perché adesso fan di quei manubri che sono larghi come la macchina e e ci stanno anche loro benissimo cosa succede qui praticamente smesso di dormire quando uno si alza chi ci dorme si alza eccetera butta il letto in alto lo fa scomparire in alto e si trova qui una zona qualcuno ha detto ci faccio lo studiolo qualcuno ha detto ci faccio qua ci faccio lo spogliatoio perché vado a rampicare vado in bici vado in cogli sci eccetera quando ritorno alla macchina non entro da davanti davanti tengo la zona pulita da giorno e da e da abitare come come cucina soggiorno e camera da letto e di qua posso farmi lo spogliatoio ci metto un bel tappetone eccetera eccetera di modo che entro da questa parte entro in casa pulito benissimo andiamo avanti andiamo avanti dentro dentro cosa c'è il bagno sempre del bagno parliamo il bagno lo abbiamo voluto assolutamente impermeabile la porta è fatta è scorrevole in plastica non è un rullottino è una è una porta sono due pannellini scorrevoli facili ecco io abbiamo possibilità di tre bagni sul 600 questo è uno dei tipi questo è quello che abbiamo scelto per questo modello quello che a me piace di più un pochino perché c'è questo lavandino che mi piace un sacco questo gioco di specchi che sembra la sala degli specchi la cosa strana comica su un van ciao a tutti ciao a tutti dal tuket da giuliano dell'auto roen armadietti armadini finestra a tetto da 40 per 40 il vc è questo qui con la cassetta grande comodo perché è facile da pulire anche quando ci si fa la doccia si bagna tutto ma lì non serve entrare dietro al vc per pulire eccetera perché è tutto così come lo vedete benissimo questa è una cosa che mi piace un sacco perché io detesto le tendine perché sono una briga sono sempre una storia personalmente dico ok bagno tutto impermeabile lo bagno tutto quanto va bene poi gli do una asciugatina così pulisco anche il bagno ma tanto ci metto nulla e via e la porta questa porta scorrevole non ad opera posto praticamente non dà fastidio a nessuno se uno si è aperta si è chiusa si che ne so il letto il letto vediamolo un attimo meccanismo italiano per farlo scendere semplicissimo con un motorino elettrico è chiaro lo possiamo regolare che scenda anche di più di così e che salga del tutto qui non abbiamo messo grandi come si chiamano mensole perché ci interessa di più il fatto del letto a scomparsa le mensole le possiamo mettere sotto per riempire di tutte le cosine che vogliamo se se ci servono però a noi interessava di più far scomparire il letto benissimo gli altri particolari a va bene anche qui come vantura possiamo abbassare il tavolo togliere la mezza gamba metterlo lì sotto e fare un altri due posti il letto qua il tavolo può anche può anche può anche scusate può anche essere attaccato qua fuori per avere il tavolino da usare all'esterno della macchina benissimo cosa devo dire ancora tu che abbiamo dotato di tutte le cose già di serie per non perdere tempo in chiacchiere il ventilatore con telecomando posteriore da 40 per 40 sopra il letto di modo che ci aiuti a mantenere una temperatura e un giro d'aria un meno col caldo dell'estate abbiamo messo la retrocamera di serie abbiamo messo la docina esterna che adesso spero di farla vedere sì finalmente ce l'abbiamo fatta la docina esterna è qui nell'alloggiamento della scatola vc della cassetta del vc eccola qui e le finestre a filo sono di serie la doppia batteria servizi è di serie ecco queste cose sono già dentro la differenza di prezzo fra vanturer e tuket è data da questi optional possiamo avere anche l'inverter da 1000 watt e la macchina del caffè a cialde lì dentro di quell'armadietto lì per cui tutti i comfort luci diurne notturne eccetera 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 il resto ve lo spiego sul nel 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 filmato dedicato al tuket benissimo allora altro particolarino che penso di aver tralasciato finestre a filo su columbus di serie finestre a filo su tuket di serie finestre a filo su vanturer sono opzionali normalmente la macchina esce cioè esce se non chiediamo le finestre a filo esce con le finestre con le solite pancione che vanno benissimo anche quelle ma vedo che c'è una preferenza per le finestre a filo ultimamente benissimo allora parliamo di prezzo perché altrimenti mi rimproverate che non metto mai prezzi il prezzo del columbus va dai 60 ai 70 mila ve lo do così no a spanna a spanna nel senso no dai 60 mila si può già avere un columbus con una dotazione assolutamente civile civile voglio dire giusta per per lui questo ne costa 66 con il kit invernale eccetera eccetera può costare fino ai 70 più il cambio automatico se vogliamo il cambio automatico e diventa 63 e qualcosa bene columbus sempre solo su ducato fiat vanturer sempre solo su ducato fiat fascia di prezzo dai 60 questo che vedete qui metallizzato quel pacchetto prime tipo ruota in lega eccetera eccetera viene a 61 e 7 mi pare comunque dai 60 mila ai 65 e 5 o 66 e 5 con il tetto a soffietto ricordo quelli che sono in arrivo può arrivare ai 70 mila dipende da cosa da come lo allestiamo comunque 60 65 è il prezzo in cui viaggia normalmente vanturer tucat tucat parte da il tucat 600 parliamo 64 mila e 500 con dunque su meccanica ecco tucat può essere su meccanica citroen 165 cavalli 2002 turbodiesel o fiat ducato normalmente ordiniamo fiat ducato come questo questo è un ducato 160 cavalli con il a parte il telaio maxi ma anche il cambio automatico 9 marcia che è una favola questa macchina costa 70 i su meccanica citroen 165 cavalli che va benissimo anche quello anzi va molto benissimo molto benissimo ogni tanto metto queste cose non so che non si dice molto benissimo però ogni tanto ogni tanto bene va benissimo anche il 165 cavalli citroen è bello allegro simpatico come motore per cui andiamo dai 64 e mezzo ai 70 di questa macchina qui bene allora io spero di avervi dato in non troppo tempo l'idea un attimino di quali sono le caratteristiche che contraddistinguono queste macchine e che non è non c'è una che sia meglio dell'altra a me sapete che piace proporre cose che mi piacciono devono piacere a me devo sentirle per qualche motivo allora le vendo altrimenti le vendo le propongo altrimenti non non mi piace essere così propositivo le proporre macchine intelligenti benissimo per tutte le domande sapete che ci sono giuliano della auto roen 3 40 7 18 39 88 info chiocciola auto roen punto it è la nostra mail whatsapp tutto quello che volete e buona giornata a tutti quanti buon 2021 visto che domani cominciamo con il 2021 speriamo bene speriamo di poterci godere queste macchine speriamo di poterle di poter esprimere anche grazie a queste la nostra voglia di libertà di viaggiare soprattutto libertà per fortuna un poca ce l'abbiamo ancora ma pochissima ma la libertà e la voglia di viaggiare ci rimane grazie a tutti buona giornata buon anno tanti auguri e tante belle cose a tutti e stiamo sani grazie a tutti